La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Enna, coordinata dalla Locale Procura della Repubblica, ha scoperto un vasto giro di usura, riciclaggio e utilizzo di fatture false gestito da due fratelli leonfortesi che, approfittando delle difficoltà economiche causate dall'emergenza Covid-19, si offrivano di prestare denaro a imprenditori locali in grave crisi di liquidità. E' questo il contenuto dell'operazione Full Control, condotta dalla Fiamme Gialle della Terenza di Nicosia, che ha portata all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei due presunti usurai, posti agli arresti domiciliari, con il contestuale sequestro preventivo di beni e denaro per circa 400.000 euro, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna al termine di un'indagine durata più di un anno. Sono complessivamente 20 le persone a vario titolo indagate per i delitti di usura, estorsione, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, emissioni di fatture false e dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Decisiva è stata la collaborazione fornita dalle vittime degli usurai. Questi, in particolare, sarebbero stati soliti erogare prestiti di denaro agli imprenditori in gravi difficoltà economiche, aggravato oltremodo dalla crisi pandemica, ottenendo in cambio la promessa o la dazione di interessi usurari, fino a giungere in alcuni casi a impossessarsi delle loro aziende. Dalle indagini avviate in seguito alle dichiarazioni rese da alcune delle vittime, è infatti emerso che i due arrestati, una volta concesso il prestito e obbligata la vittima al pagamento mensile degli interessi, sempre superiore al limite massimo fissato dalla legge, il cosiddetto tasso soglia, dinanzi alle prime difficoltà manifestate degli imprenditori nei versamenti periodici, li avrebbero costretti a cedere, a titolo di garanzia, le proprie quote societarie, talvolta in modo occulto, altre volte attraverso la loro formale acquisizione, accompagnata tuttavia da pagamenti fittizi. In altri casi, sin dall'origine, la concessione del prestito sarebbe stata subordinata all'acquisizione delle quote societarie a titolo di garanzia e alla conseguente pretesa per la restituzione del prestito degli interessi di una parte dei ricavi aziendali. In seguito, se le attività o i ricavi delle aziende non si rivelavano sufficienti a garantire il pagamento degli interessi e la restituzione del capitale, veniva richiesto alle vittime quale garanzia aggiuntiva il rilascio di cambiali firmate in bianco con l'intento in tal modo di prolungare il più possibile, anche con violenza e minacce, l'attività usuraria posteneste dagli arrestati. Le indagini svolte attraverso accurata analisi bancaria, inoltre, hanno consentito di ricostruire prestiti concessi a un tasso di interesse che in alcuni casi avrebbe raggiunto il 200% anno.